Mamma mia, quante donne, non sono pronta, eh? Mamma mia che noiosa che sei, ma non è che andiamo a puntare, abbiamo migliaia di puntate, cosa fai? No, vedo se riesco a fare una camminata un po' più sexy. Quella camminata strana. No, ma c'è ancora male al ginocchio. Eh appunto, non farlo. E' ancora il ginocchio sifulo. Ti vuoi sedere? Anzi, lo volevo dire a Biden, poveretto, che chissà quanto tempo ci vorrà ancora per quel piede, eh? Sai che è caduto, si è rotto un piede. Sì, l'ho visto. Non aveva ancora il piede dentro la casa bianca, trac, si è già rotto. Eh, lo so, è andata così. Insomma, è partito col piede sbagliato. Tra l'altro, volevo dirti che anche lui è caduto non facendo parkour o buttandosi cosetta plana. A un'altra età rispetto a te. Ho capito, però è caduto giocando col suo canelupo, quindi ha fatto più danni il canelupo che Trump. Tra l'altro Trump, il nostro duca del ducato di Merdonia, gli ha anche mandato un tweet. A te. Non ti avvicinare. Ha mandato un tweet a Biden dicendo guerrici presto e poi ha messo anche il video di lui che entrava nella clinica per dire che era un vecchio rincoglionito. Ah, sì. Eh, perché in effetti un po' di età ce l'ha, eh. Cioè, 79 anni, eh. Eh, sì. Ha la stessa età di Matti, di Mattarella, sono coscritti. Però, mi raccomando, le parole, eh. No, no, però mentre Mattarella diciamo che si è messo un po' il cuore in pace, l'altro Biden è ancora in piena crisi di mezz'età. Sono americani. Guardiamo le foto e vediamo la differenza, vediamo. Sì, però, mi raccomando, Luciano. Ecco, guarda, guarda che differenza. Sì, vabbè, però la sobrietà è un valore. Allora, uno viaggia con gli occhiali a goccia e una dentiera a 32 denti, l'altro, qua ho scelto una foto in cui rideva. Vabbè, smettila. Si stava sganasciando dalle risate, quando ride fa così. Guarda che la sobrietà è un valore. Ma, ma, assolutamente, sono d'accordo con te. Oh, ecco. Poi, per esempio, secondo me Biden è uno che quando vede una bella donna si gira. Ma che ne sai? Mattarella. Ma che ne sai? Chiede alla scorta com'è. Ma smettila. E poi, adesso Biden qua non ce l'ha, ma è uno che viaggia anche con i jeans attillati. Matti. I jeans? I jeans attillati, Mattarella. Ma piuttosto si mette la tonaca di Don Matteo. Ma meno male, scusi. Ma meno male, ma matti tutta la vita. Eh, punto. Ecco. Boh, chissà se c'ha qualche hobby, Mattarella, che tu sappia. Non lo so, non mi sono mai permesso. Ma tipo che va a cavallo, cosa fa? Non credo, perché c'entra il cavallo. No, ma perché ho visto la foto. Sì, sa dove vuole arrivare? Perché ho visto la foto di Vanda Nara. Che c'entra? Sai la Nara di nome Vanda? Sì. È un'appassionata di cavallo. Bene, è normale. Questa settimana si è fatta una foto in sella al suo destriello. Eh, quello che male c'è? Vestita proprio con la tenuta da Fantino, vediamola. Per fortuna, Fantino, la mazzola, che Fantino. Eccola. Quando si dice cavalcare a pelo, vedi? No, c'è la sella e non è... Non si spiega. No. Tanta roba. Tra i due, quello più vestito è il cavallo. Sì, questo è vero, sì, sì, questo è vero. È incredibile. Effettivamente quello più vestito è il cavallo. No, ma no, perché noi siamo già abituati a Belen, che per farsi una foto in Tinello mette una gamba nel forno e il sedere sul lavabo. Adesso ci manca anche... Però il cavallo pare contento, direi. Ma sì, direi di sì. Io mi chiedo com'è stata issata su, cioè l'hanno messa su, a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie, e credo della Yolanda Presti. Ma è ferma, il cavallo è fermo. Ho capito, ma il cavallo non starà immobile. Ma sì che sta immobile, ma sì. Allora, spiegami dove è finito il pomello della sella, allora. Smettila! Secondo me si arpiona in questo modo. Voi piantatela qui in studio. Allora, poi... Il compianto Ugo Foscolo, che scrisse Ode a Luigia Pallavicini caduta da cavallo, adesso scriverebbe Ode a Wanda senza mutanda e sella il suo ronzino. Va bene, andiamo a Wanda. Tra l'altro tu che invece hai la figlia che fa equitazione. Sì, ma non così. Non così. Ma anche perché così si va sul surf. Lascia stare. A di pazienza. Il toro meccanico. Non scherzare su Caterina, vai avanti. Ma no, ma non sto scherzando. Cambia sport. Lei si sta specializzando perché vuole fare il paglio di Siena nella contrada della passera, secondo me. Smettila! Poi la cosa bella è che... Posso avvicinarmi per i droplets, capito? Devo stare, devo trattenere. La cosa bella è che sotto ha scritto Pisando fuerte che in spagnolo vorrà dire andando veloce, una cosa così. Ma in italiano pisando, pisando fuerte dall'idea di una roba che deve evitare di fare. Poi, poi, poi... No, fai avanti. Quella faccia da beluga che hai. Ma no, ma se è un'ora su sta... Togliamo anche sta foto, togliamo. Stiamo tutti un po' so... E ci sono dei bambini che vanno a cavallo. Oh. Oh. Un po', insomma, esagitati in questo periodo, no? Per esempio, non so se hai visto la campagna di pubblicità progresso del comune di Martano, in provincia di Lecce. Sono dei manifesti dove si invita la popolazione a mettersi la mascherina. Vediamo il manifesto. Non l'ho visto. Non passare da stupido, capiterai se ti chiedessero di mettere una pigna nel... Ma è semplicemente una mascherina davanti a naso. È scritta tu? No, purtroppo l'ha scritta il comune di Martano. Mi spiace, io la trovo bello. Molto efficace, efficace. Sì, forte. Il concetto, diciamo che... Sono parole tue, però. Diciamo che il concetto entra come la pigna, diciamo. Sì, sì. Io avrei aggiunto dopo la pigna colada, la pigna infilata. Va bene, mamma mia. È molto bene che la signorina indica la mascherina e non indica invece la location dove... Però la domanda è che vorrei fare alla città di Martano. Perché proprio la pigna? Ma perché... Perché tu ti fai queste domande? Mi faccio delle domande perché c'è la pigna e me la vedo bene a Cervigna, a Courmanieu, a Svezia, ma non a Lecce. A Lecce mi vedo più un prodotto locale, cioè non so, il fico d'India, il ramo d'ulivo, il riccio di mare, me li vedo di più. Ho capito. Cioè sono più a chilometro di te. Perché lei è precisa. Ho un prodotto tipico, cioè un trullo per esempio. Capirei se ci chiedessero di mettere un trullo. Un trullo, sì, sì, va bene. Capisci? È molto più impattante. Va bene, la prossima volta... E anche una pubblicità per il territorio. Capirei se ci chiedessero di mettere una bottiglia di Primitivo di Mandurio. Puoi andare avanti perché gli eserci sono infiniti. Ma scusami, ma perché Brignano ridi e a me dici sempre sono mai avanti? Perché tu sei una signora, devi essere... Ma smettila! Piantala lì. Perché può? Cosa applaudite? Cosa applaudite? Io la conosco da quando era alta... Uguale, sono sempre stata alta così. No, che poi la pigna, volevo dire, c'ha anche un verso, capisci? La pigna c'ha anche un verso, perché magari entrare entra, ma uscire e poi, cari miei... Quanto dura questo pezzo sulla pigna? No, volevo farti vedere alcuni tipi di pigna. Non è il caso, Lucia. Perché questo è interessante, vedi, c'è la pigna dell'abete rosso che è semplice, anche la pigna della sequoia, però c'è la pigna di Lambert, adesso non si vede bene, però la pigna di Lambert è molto bella, quella lì, veramente. Molto benissimo. Questa che però la pigna ha i suoi bei lati positivi, eh, secondo me. Sì, mamma mia. Sì, perché per esempio, quante volte, io non so se succede anche a voi, io esco tantissime volte senza mascherina, invece... Quando? Esco senza mascherina e scendo sotto dico, ah, la mascherina, e deve tornare... No, no, deve essere precisi, io non la dimentico mai. Invece con la pigna, non te la dimentichi la pigna, te la metti e... Anche con la mascherina non respiri, fai fatica. Con la pigna, invece, respiri perfettamente. Eh, certo. Dicevi tu? No, io la mascherina la tengo in tasca il giorno per la sera prima, vado a dormire e mi metto la mascherina nella tasca della giacca del giorno dopo, così non la dimentico. Ah, bene. Però guarda che anche con la pigna ti troveresti bene, secondo me. preferisco fare... Se la metti nell'altra tasca. Per ora preferisco... Alla mattina decidi se preferisci metterti la mascherina o la pigna. Preferisco fare così. Decidi un po'. Vedrai che ci saranno anche i negazionisti della pigna, i coppini. Va bene. Però a me spiace soltanto tanto per i vigili, perché i vigili che devono controllare... Se incontro la mascherina, incontro la pigna. È certo. Scusi, ha messo la pigna, ma no, sono appena sceso a portare giù l'immondizia, e no, mi spiace, deve mettere la pigna, perché se no... Comunque, vabbè, tutte le strategie per migliorarsi e stare meglio sono ben accette. Una regione che è sempre molto avanti, in questo senso, è il Veneto. Non so se hai sentito, ma questa settimana... No, cos'è successo? ...hanno varato il piano regionale per la ripresa e la resilienza della regione Veneto. Dimmi tutto. E l'hanno chiamato il PRR. Il? Piano regionale. PRR. No, piano regionale. PRR. Guarda, mandami la foto, c'ha tre PRR. PRR, si chiama PRR. Ecco, vedi lassù, vedi? PRR. Piano regionale per la ripresa e la resilienza della regione Veneto. PRR, si, non è un nome. Cioè, se uno pizzica la R, viene PRR. Sì, poi escono anche tutti i droplets. Eh, infatti. Tra l'altro, questa cosa qua è un capitolo di questa articolatissima del piano regionale, perché abbiamo, prima del PRR bisogna avere impostato il PRAC, che è il piano regionale anti-covid, sempre della regione Veneto, seguito subito dal PET, progetto europeo territoriale. Quindi viene PRR, PRR, PRAC, PET. In certe regioni è richiesto anche il doppio PET. E tutto questo, a patto che sia già stato varato il PROT, il Parametro Regionale Organizzativo Tamponi, e in questo caso verrebbe PRR, PET, doppio PET, PRR, 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 PRAC, PET. Quindi, se fai una riunione di gabinetto, capisci bene, che io ho il nome. Per cui, per Zaia funziona. Adesso sta lavorando allo SPRITS, cioè Società Padana Recupero Tamponi di Zona, allo STOCA, Società Territoriale Organi Comunali Autonomo, e allo STICA, Senatoria Totale Italiana Catastale Autogestita. Va bene, allora, adesso ho sentito Burioni, insomma, questi vaccini finalmente arrivano. Mamma mia, meno male, dai. Meno male, un sospiro di sollievo, la Pfizer festeggerà tantissimo, proprio sciaboleranno bottiglie di champagne alla mezzanotte. E a proposito di mezzanotte, non so se sai, ma qua c'è un DPCM nuovo. DPCM? C'è un DPCM? Solo per Capodanno. Mettere la gomma, il DPCM è vietato mettere la gomma sull'acqua. Mi dispiace. E allora c'ho il documento in esclusiva. DPCM? Dici DPCM? No, si dice... DPCM. DPCM? DPCM. Brava. Ok. Apri bene le orecchie, aprite bene le orecchie, spalancate i portali uditivi, anche tu, perché poi se finisci in galera io non ti vengo a trovare. Allora... Davvero? No. Ora ci penso. Penso nemmeno. Io ho sottoscritto Giuseppi Conte, detto Conte Bepi, già autore della trilogia DPCM1, DPCM1, DPCM2, DPCM2, DPCM3, Natale nemmeno con i tuoi, Pasqua cazzi tuoi, nel semipieno delle mie facoltà mentali con quei pochi neuroni rimastimi, garantendo che la mia persona nonostante tosse e starnuti a mitraglia, Covid non ce n'ha, di Covid non ce n'ha, in quanto sento gli odori e faccio l'amore con i sapori, felice inoltre che questo anno, consentitemi, fottutissimo, stia per finire, dispongo questo nuovo articolo del titolo chi di PGM a capodanno, di PGM a tutto l'anno. Ma non è che di PGM a capodanno, di PGM a tutto l'anno? Tutto l'anno. Sì. Allora, stabilisco che si potrà festeggiare la mezzanotte ma solo entro le 22, poi tutti tumulati alle 7 di mattina, fino alle 7 di mattina. Niente pipì del cane, se il cane defeca direttamente sul tappeto me li ancora porta bene. No feste in maschera, no feste in mascherina, no baci sotto il vischio, sì gomitate in cortile. Per sopprimere forte voglia di ballare si sconsiglia vivamente musica allegra, quindi no me amico Charlie, no Maracaibo, no Brigitte Bardò Bardò, no mi sono innamorato ma di tuo marito. preferire brani tristi, molto tristi e malinconici, tipo Carmina Burana, Requiem di Mozart e Gobbo di Notre Dame. Come sottofondo al Brindisi si consiglia quindi tappeto sonoro tipo Canto delle Balene, Rutto delle Aragoste o Ronzio della Cimice che ha preso una ciabattata, fino ad arrivare a Raschio del Muratore che taglia la piastrella con punta lancia. No botti, no raudi, no petardi, no fuoco ed artificio, no mine anticarro, no missili terrarie, no trichetracche, no bomba capata di Zidane. Ci manca ancora che riempiamo gli ospedali perché ci facciamo male da soli. Spumante sì ma solo con tappo a vite per evitare colpo di sughero nell'orbita. No speciale Capodanno su Rai 1 previsti invece concerto dal vivo di inedito duo Baglioni Burioni che canteranno il nuovo grande successo che fa così. Quella mascherina fina tanto stretta al punto che il naso usciva tutto. Prendo l'ata chipirina che non te l'ho detto mai ma io ci andavo male. In caso di estrema noia o solo in caso di comprovata necessità si potrà fare sesso col coniuge. In alternativa dopo la DAD, la didattica a distanza, il governo promuove e incentiva la CAD, ciupata a distanza. Comma 2, chi non ha ciupato nel corso del 2020 causa pandemia può ritirare il ristoro ciupata collegandosi con lo SPID all'INS e digitando il codice CIUP. Oltre a tradizionali mutande rosse è consentito indossare mutande gialle e mutande arancioni, a seconda zona di appartenenza. Chi ha le mutande gialle potrà uscire e muoversi solo verso altre mutande gialle. Chi rosse solo con rosse, chi arancioni idem. Lo Stato italiano per quest'anno consiglia vivamente indossare mutande verdi, verde speranza come il ministro. Si raccomanda durante ascolto previsioni astrologiche, forte ravanamento di Zebedei e laddove sprovvisti toccamento di cornetti, ferri di cavallo, sventolio di corna da entrambe le mani. Se si gioca mercante in fiera accertarsi che non sia la fiera di Wuhan. Se bisogno insopprimibile di trenino si consente ma solo se fermo al passaggio a livello. Visto che le lenticchie portano soldi il governo invita gli italiani a consumarne non meno di 6 chili cada uno. Sarà consentito festeggiare il capodanno in hotel facendosi venire l'orchite del secolo. Il cenone va consumato nel vano doccia per evitare ogni possibilità di contagio, ascoltando solo musiche balcaniche composte durante la dittatura di Tito. Si potrà comunicare però tra una camera e l'altra usando colpi sulla parete in codice Morse. Buon anno è linea, punto linea, 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 punto, punto. Proibite crociere, giri in barca, mosconi e pedalò. Eventualmente ci si può far venire il mal di mare girando compulsivamente attorno a una sedia. Per chi non può rinunciare al verso straziante dei gabbiani al tramonto, accendere la bajour e pestarsi il dito con un martello. Se sei in zona gialla puoi andare nella seconda casa in montagna ma non puoi sciare. È consentito invece a girarsi in pineta sotto la tormenta e passare le serate davanti al camino a vedere chi ha la testa più grossa. Inoltre, viste le ordinanze nei giorni 25 e 26, non è possibile spostarsi dal tinello a soggiorno dalle 16 alle 18. Dalle 23 alle 7 è sconsigliato recarsi in bagno o, scusa cara, ho sentito un rumore in salotto. A chi entra in bagno subito dopo che è uscito l'altro è consentito tenere la mascherina. Nei giorni 30 e 31 sono vietati gli spostamenti e l'attraversamento dei corridoi. No a cambi di posto a tavola senza certificazione e comprovato motivo, sì a bacetto su propria mano se scottati ai fornelli. Si proibisce categoricamente di fare per intero il conto alla rovescia partendo da dieti per rilascio troppo droplet nell'aria e limitarsi invece a conto alla rovescia partendo da uno. Quindi dire solo uno, buon anno, boh. Alla fine niente esultanze, no baci, no abbracci, no pacche sulle spalle che non rispettano il distanziamento. Consigliati fortemente gesti dell'ombrello da fare da soli. Le trasgressioni saranno punite con l'utilizzo di un tampone avente bacchetta lunga al doppio del normale e l'introduzione non per via nasale. Auguri cari, sempre vostro Conte Beppi, PS, come dice il proverbio, la pandemia tutte le feste si porta via. Ma brava Luciana, brava, guarda, talmente brava che c'è un premio. Che premio? Alzati, guarda, vieni qua con me, vieni qua, mettiti lì, mettiti lì, me non li ho da quella parte, stai lì, ti faccio salutare un nostro idolo. Buonasera al maestro Peppe Vessicchio, buonasera Peppe, guarda. Ciao, che bello per Natale, che bel regalo. L'hai visto, sei contenta? Mi aspettavo di vedermelo sotto l'albero, ma va anche bene così. Senti Peppe, ma dunque, ma Sanremo lo fai o no? C'è intanto e quando c'è? Non lo so se ci sarà onestamente. Ci sarà, ma non si sa quando ancora? Ecco, non si sa quando, speriamo, speriamo. Senti, come stanno i pomodori, quelli che fai crescere con la musica? Benissimo, benissimo, peccato che li abbiamo tutti lasciati da soli per un periodo adesso, nei barattoli e nelle bottiglie. Vabbè, senti Luciana, Peppe è qui perché c'è un'iniziativa importante di cui è testimonial, come si dice con la parola un po' così, che è la campagna Operazione Pane dell'Antoniano di Bologna, per sostenere appunto le mense francescane di tutta Italia. Giusto Peppe? È giustissimo, è un pronto soccorso, è un soccorso di prima necessità, secondo me è una cosa straordinaria. Ho visitato varie mense tenute dai francescani e posso garantire l'importanza di questo gesto, perché non c'è solo il pasto, ma è anche uno sportello di ascolto, di accoglienza, di vicinanza e soprattutto durante questa pandemia sono anche aumentati i bisognosi. Ecco perché c'è bisogno di questo appello. Poi canterai anche tu o lo zecchino? Hai cantato tu da piccolo lo zecchino? No. Mai? No, non l'ho cantato. No, no. No. Quest'anno lo zecchino per il Covid, lo zecchino d'oro è stato posticipato appunto a maggio, giusto? Ieri è uscita anche la compilation per l'altro dello zecchino e quindi insomma c'è a maggior ragione bisogno di sostenere l'iniziativa delle mense francescane appunto dell'Antoniano. Peppe io ti ringrazio moltissimo, volevo anche... Grazie a voi. No, volevo... Dimmi Luciana. Aspetta, perché siccome mi manca moltissimo lui, mi sono fatta fare una mascherina con la sua barba. Così non ce l'ho avvicino ma la posso indossare. Sì. Guarda. Oh, guarda che bello. Hai capito? Hai capito a che punto siamo? La mascherina con la barba di vessicchio può diventare di gran moda. Io ti volevo invece augurare buon Natale, Peppe, con questa immagine di te, Babbo Natale, ti ricordi quando abbiamo fatto questo insieme, voi due? Come no. E come dimenticarlo? Dici di tu, certo. No, io invece sono riuscita a scovare delle fotografie di Beppe quando era piccolo che non aveva la barba, vediamole. Non esiste? No, no, esiste. Da piccolo no. Lo trovate? Ma quando? Quanti anni aveva? Eh, aveva, faceva l'elementare. Beh, mi mandate la foto? No, quella no, quella è Mattarella, scusate. Ecco, guardalo. Guarda che carino, senza barba. Ma non è lui. È lui, vero che sei tu? A questa pensate, è l'ultima foto, è l'ultima foto senza barba. No, aspetta, ce n'è un'altra ancora, adesso vi faccio vedere l'altra che è ancora più bella. Qua credo che tu fossi alla Cresib, alla Comunione, dove eri? Guarda che bello, aveva già la stessa espressione però senza barba. Bellissimo. Peppe, vuoi replicare? Ecco, io ci salutiamo. No, cosa devo replicare? Abbraccio Luciana, sarebbe voluto tanto essere lì con voi. Speriamo la prossima volta. Dai, dai, che ti aspetto a casa mia e ti faccio mangiare di nuovo i pomodorini. Grazie alle iniziative dell'Antoniano e per le messe francescane. Io vorrei ricordare tutte le associazioni che in questo periodo si stanno occupando di tutto ciò, di aiutare gli altri. Penso ai miei amici di Nuovi Orizzonti, penso alla Comunità di Sant'Egidio, penso a tutti, insomma spero che nessuno si offenda, ma vorrei nominarli veramente tutti perché insomma noi parliamo, parliamo, ma ci sono persone che poi fanno veramente le cose. Grazie Peppe, grazie molte. Grazie, grazie a voi. Stasera è una grande serata. Prima di lanciare la pubblicità io vorrei fare entrare il nostro prossimo ospite che insomma accompagna tutti noi da 30 anni, 30 anni di carriera che sono celebrati... 30 anni di carriera, ma perché abbiamo più o meno tutti la stessa età. Eh sì, e celebra i suoi 30 anni con una doppia uscita discografica, è uscito sul nuovo album che si intitola Sette, composto da sette inediti, è una raccolta, 77 brani più i sette appunto inediti, riscritti e riarrangiati, lui è per tutti noi il libro.